Siamo a Bergamo, il Trofio San Campo, mi trovo in compagnia di Marion Hoover che ha appena vinto la categoria a limite di 44 kg della classe cadette femminile. Marion, in due parole, il tuo incontro? Sì, ho vinto con Dippon, con un spagnolamento. È stato un incontro difficile o sei riuscito a gestirlo facilmente? No. Tu sei riduce, arrivi da una stagione agonistica e impegnativa, hai vinto i campionati italiani, hai fatto quinto ai mondiali e anche agli europei. Cosa ti aspetta l'anno prossimo? L'anno prossimo è il gioventù. Sarai ancora nella classe cadetti anche l'anno prossimo e combatterai nella categoria fino a 44, quindi ci sarà un salto di categoria per l'anno prossimo. In bocca al lupo per quello che farai e concludiamo insieme come facciamo tutte le interviste dicendo Italia Judo. Italia Judo. Italia Judo. Grazie a tutti.